In un'ottica di rafforzamento dell'azione amministrativa agropolese e di partecipazione attiva da parte dell'intera maggioranza di governo, il sindaco Adamo Coppola ha assegnato la delega al Porto e De Manio al consigliere Giuseppe Di Filippo, al consigliere Franco Crispino quella alla pubblica istruzione. L'assessore Rosa Rampasona, che in precedenza possediva tale delega, vede rafforzato il suo ruolo, si occuperà di ambiente e sanità. Queste le parole del sindaco Adamo Coppola, tale rimodulazione si pone l'obiettivo di favorire ampia partecipazione di idee e fattività, rinnovo la fiducia nel lavoro degli assessori e dell'intera squadra di governo. Le sfide che ci attendono sono ancora tante e colme di entusiasmo.